Signori bentornati nel canale, oggi andiamo a vedere come completare la sfida della settimana 8 appena uscita Eccola qua, trova il giocatore con lo stile più fresco dell'isola Non ci basterà altro che recarci a Canyon Condominiale Andare in uno di questi, vicino a uno di questi punti esclamativi Guardarci allo specchio ed eccoci qua Ci saremo finalmente trovati e abbiamo completato la missione Spero che questo video vi sia piaciuto e stanno così mettere tutti un bel like, una bella iscrizione al canale Ci vediamo con i prossimi video delle sfide della settimana 8 che usciranno tra pochissimo Detto questo io non posso fare altro e salutarvi, like, iscrizione e condivisione Ciao